Nona ed ultima del convegno, Gran Premio Lotteria di Agnano edizione 2009, distanza del miglio. Dallo steccato Algiersol, Roby Vecchione, Opal Viking, Biongo, Osodefe, Jean-Michel Basir, Highland F, Pietro Gubellini, Jodas Giulia, Dominic Loquenet, Ghibellino, Roby Andreghetti, Hidalgo Jet, Pasquale Esposito Junior, Classic Grand Cru, Thomas Huberg, Ismoz FP, Enrico Bellet. Mezzo meccanico in movimento. Arretrato Hidalgo, ma via la macchina, come da copione, Opal Viking e Algiersol, l'ha le prese, rientra Algiersol, parte alla grande Ismoz FP, cavalli che affrontano la piegata, Algiersol vuol correre al comando, 12 e 7, cerca spazio Opal Viking, ma Bellet glielo nega. All'argo Osodefe, avalia il completamento della piegata, già più pariglie, tira subito i remi in barca il buon vecchione, 28 e mezzo, e così a graduare Algiersol. All'argo Opal, all'argo Osodefe, all'argo Alain Def e Ghibellino, di dentro Ismoz e Hidalgo. 600 in 43 e 8, e cavalli che affrontano la penultima curva, con in pole position Algiersol e Opal Viking, poi Osodefe, Ismoz FP, Alain Def. Cavalli al completamento del mezzo miglio, mezzo miglio in 59 e 7, corsa super tattica. Ma ora ci pensa Bazzira a muovere le acque, viene via il francesone, cavalli alla chiusura del chilometro. Il chilometro è nell'ordine dell'1-13-8-14 di frazione Algiersol, bene nelle redini lunghe di Roby, vecchione. All'argo Opal Viking, di dentro chiuso Ismoz FP, all'argo Osodefe, poi Dalgo Jet. 3-19-1-27-7-3-4 di miglio, Opal Viking comincia a far sul serio, all'argo Osodefe. Completamento della curva finale, retta d'arrivo, Opal Viking, Algiers che scappa via. Ci prova Opal Viking, Algiersolo in vantaggio, all'argo Alain Def. I cavalli sono in zona traguardo, e sul traguardo Pietro Guperlini! Sì, Island Def! E così Guperlini, 1-56-6, 1-12-8, finalmente si toglie il Maiden, Pietro il Grande, con quest'Ailand Def. Non aveva mai vinto in lotteria, ma oggi, servito a dovere, l'esultanza di Pietro il Grande, getta via il frustino, manda il bacio al cielo, meritatissimo questo premio di lotteria. Alla seconda, Ghibellino, che proprio sul traguardo pizzica gli avversari.